Presidente, un secolo di veia vuol dire tanta storia di Torino, è per questo che si farà una grande festa qua a Torino? Certo, noi faremo una grande festa il 6-7 giugno coinvolgendo tutta la città. La partecipazione che speriamo e siamo quasi sicuri di avere, pensiamo di portare 80-100 mila persone in città. Sarà due giorni di allegria, di felicità e soprattutto diamo qualcosa comunque alla città. La città sta rispondendo bene, a parte il cittadino ma anche le istituzioni, sia della città e anche della regione, devo essere sincero, ci sono vicini, hanno dato il loro patrocinio per questa festa. Sarà una bella festa anche per dire che gli alpini quando ci sono bisogno ci sono sempre, con la loro protezione civile ma non solo. Certo, noi attualmente con la città metropolitana, con il comune regionale siamo circa 350 volontari di protezione civile. È un impegno, noi abbiamo circa 80 volontari che mi danno un H24 per qualsiasi emergenza e gli altri a necessità. Lo diamo alla città volentieri, ma come l'abbiamo dato alla città con loro abbiamo dato tanto nelle zone terremotate. Abbiamo fatto dei turni che sono stati di 15 giorni, abbiamo fatto tutto, dall'Abruzzo alle Marche, siamo stati d'aperto, ma gli alpini sono così.